fratelli e sorelle carissimi che siete chiamati a donare sapore alla terra con la testimonianza evangelica della vostra fede pace a voi commenteremo oggi il brano del vangelo di matteo al capitolo 5 versetti 13 16 gesù ha appena proclamato alle folle il discorso della montagna le beatitudini carta di identità di ogni credente sono state appena annunciate la gente e i vicini discepoli hanno appena accolto la novità e lo splendore di quelle parole sorta di magna carta per il cristiano di tutti i tempi gesù è presentato da matteo come un nuovo mosè mosè è stato il condottiero di israele che ha guidato il popolo dell'antica alleanza alla salvezza nell'incontro con dio attraverso l'ascolto e l'accoglienza della legge la torà gesù è come un nuovo mosè che conduce il popolo della nuova alleanza alla salvezza del regno attraverso l'accoglienza di una legge nuova le beatitudini le beatitudini sono dunque la nuova legge per il popolo della nuova alleanza da qui la necessità impellente di agire e operare nella vita con la necessaria coerenza che qualifica e rende credibile la testimonianza evangelica quelli che accolgono lo spirito evangelico delle beatitudini e lo vivono mettendolo in pratica diventano segno efficace nel mondo e per il mondo a questo proposito gesù usa l'immagine quotidiana ma incisiva del sale questo cristallo solubile che gli uomini hanno imparato a sciogliere per insaporire ciò che mangiano elemento così prezioso nell'antichità da divenire oggetto di commercio quale città magari di lontane origini romane non possiede infatti il toponimo tra le sue strade di via salara o salaria gesù prende questo elemento il sale conosciuto di uso quotidiano e domestico per indicare a chi è discepolo quale sia la sua essenza e il suo compito nel mondo voi siete il sale della terra dice il signore a chi lo ascolta come discepolo versetto 13 e questo ascolto accoglienza da al discepolo la sua essenza di credente e testimone dell'insegnamento evangelico accolto nella fede il discepolo è insaporito dal messaggio ascoltato e accolto quella parola così forte ed efficace così vera è entrata nei suoi giorni gli ha dato luce forza coraggio quella parola lo ha salato anzi lo ha trasformato in sale ed è il sale a dare sapore e il discepolo con la sua vita ad agire come sale della terra ho sempre pensato ascoltando queste parole del signore alla realtà che è la terra questo cosmo di relazioni che dio ha dato da intessere agli uomini necessita della presenza dei discepoli anzi con loro esserci ne divengono essenza il mondo è come un ammasso di farina pronto per l'impasto ma necessita di una giusta dose di sale perché quell'impasto divenga un buon pane il discepolo sa di essere quella piccola quantità preparata da dio per dare sapore e bellezza all'intera vicenda umana trasformandola nel regno di dio che diviene il regno viene se il discepolo è e come tale vive opera testimonia ma se questo non avvenisse o venisse meno cammin facendo è questa la domanda contenuta ancora nel vangelo al versetto 13 quando gesù dice ma se il sale perde il suo sapore con che cosa lo si renderà salato se il discepolo smarrisce la sua essenza con che cosa gliela si può ridare il sale qualora perdesse il suo sapore sarebbe utile solo come ghiaia da calpestio nelle parole di gesù gettato via e calpestato dalla gente abbiamo la percezione di un giudizio di dio sull'identità perduta e non recuperabile come testimonianza efficace è l'identità di chi è rinunciato ad essere discepolo dunque efficacemente anche sale della terra gli altri tre versetti seguenti il 14 15 e 16 usano un'altra immagine per indicare l'efficacia di essere discepoli quella della luce dice infatti gesù a chi lo ascolta e lo accoglie come discepolo voi siete la luce del mondo è vero ci sentiamo pur nella consapevolezza delle nostre fragilità e delle nostre oscurità riflesso luminoso di colui che ha detto io sono la luce del mondo chiamati ad essere luce per vocazione siamo luce da luce nella testimonianza o splendore del mistero ma se siamo luce nel signore il nostro compito è di essere cittadella visibile di testimonianza non puoi essere città costruita su un monte e rimanere nascosta non puoi essere discepolo senza illuminare il cammino di chi ti sta accanto quanti bei paesi nelle nostre montagne d'Abruzzo sono lì a raccontarci l'efficacia di questo messaggio evangelico con la loro immagine ogni volta che vedo l'incontro tra natura e opera dell'uomo reso visibile nella costruzione di questi antichi paesi un po' arroccati sulla cima di colli o monti penso all'efficacia e immediatezza delle parole del Signore insegnamenti che nascono da immagini di vita quotidiana siamo luce, siamo lampada accesa e la lampada non si mette sotto un secchio nascosta ma su un candelabro quanti bei supporti in genere bronzei con funzione di alzata per reggere le lampade olio ci sono pervenuti dall'antichità romana una lucerna va sopra questi alti supporti detti appunto candelabri che venivano piazzati nei punti strategici di una camera per illuminare tutti coloro che vi sarebbero entrati il versetto 16 finale del discorso riguardante il tema della luce passa dallo stile narrativo e parabolico a quello esortativo così risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli è bello pensare alla nostra chiamata illuminati dal risorto nel battesimo siamo chiamati ad essere figli della luce mentre andiamo incontro al Signore che viene chi guarderà a noi alla nostra testimonianza vedendoci non si fermerà a lodare l'opera del testimone ma di quel Dio del quale il discepolo è testimone guardando alle opere di luce compiute da quanti sono chiamati ad essere luce del mondo non ci si fermerà a dare gloria agli uomini ma a quel Dio luce che ci ha illuminato con la presenza e la parola del Figlio facendoci diventare luce nella vocazione cristiana chi ci guarda ha diritto a vedere in noi le opere di Dio da qui la necessità ineludibile di essere luce davanti agli uomini per illuminare il cammino dei fratelli verso il Dio luce da scoprire amare e glorificare con la vita che tentazione sarebbe servirsi del proprio essere luce per farsi adorare dagli uomini usando le cose di Dio per accrescere il proprio ascendente forma subdola e sacralizzata di potere sulle coscienze altrui nel nome del sacro che tentazione per una falsa forma di umiltà rinunciare all'impegno anche faticoso di essere testimoni di luce con la motivazione di essere peccatori so di esserlo neanche ci provo a non esserlo alternativa ad un uso egocentrico e strumentale delle parole del Signore o un uso nel nome di un falso spiritualismo degli insegnamenti evangelici non resta che un semplice e autentico approccio con la parola con la quale avvolgere la propria esistenza vivi della chiamata ad essere sale e luce pur consapevoli delle nostre fragilità e peccati fiduciosi nella divina grazia camminiamo nel mondo dando il sapore evangelico alla nostra storia e a quella di chi ci sta accanto facendoci illuminare da Cristo luce del mondo perché il nostro andare nella vita sia un illuminare perché quotidianamente illuminati la nostra gioia sarà il vivere quotidiano della chiamata evangelica sale e luce di Dio in debolezza e fragilità grandi perché collaboratori del grande progetto del regno Amen